L'Alassio ha perso. Il video inizia così. Buona domenica a tutti ragazzi, state bene? Spero di sì, spero che possiate trascorrere un'ottima giornata in compagnia dei vostri affetti o magari in giro se avete qualcosa da fare. Io per esempio sto uscendo quindi vi pubblico questo video mattutino e poi ci vediamo invece questa sera per la live reaction a Juventus Napoli e tutti i video post partita soliti che portiamo il giorno dopo o comunque un susseguirsi di contenuti che ci accompagnerà per tutta la settimana dato che prepariamo anche la sfida all'Inter e infatti poi nel finale parleremo anche di quello che è accaduto ieri sulla grazia a Lukaku. Voglio fare due paroline finali però per iniziare voglio parlare appunto di Juventus Napoli. E l'Alassio ha perso. L'Alassio ha perso, squadra che in questo momento si trova al secondo posto in classe Vega in Serie A squadra che potrebbe essere agganciata e superata dalla Juventus oggi con una vittoria in casa contro il Napoli. Non voglio star qui a parlarvi di perché il Napoli è forte però voglio elencarvi alcune statistiche che mi è capitato di vedere, di raccogliere e voglio assolutamente condividerle con voi per farvi capire quanto sarà complicata la partita di oggi. Il Napoli è forte, è fortissimo, lo sappiamo tutti. Però è anche giusto a livello statistico cercare di capire quanta differenza c'è in questo momento tra Juventus e Napoli. All'andata ci eravamo trovati un po' più vicini a livello di classifica e si sognava eventualmente un risultato positivo al Maradona per cercare di migliorare un po' la classifica della Juventus che poteva poi trasformarsi in vice esternale in qualcosa di clamoroso. Purtroppo così non è andato, anzi c'è stata una bruttissima sconfitta da parte della Juventus che oggi dovrà invece cercare di dimostrare che è passato un po' di tempo che i valori si sono riallineati anche se il Napoli rimane la favorita per lo scudetto e rimane probabilmente la squadra più forte in Italia perché io ne sto sentendo tanti in quest'ultimo periodo il Napoli è calato, il Napoli adesso non è più, ecco è visto perché è uscito alla Champions ma il Napoli continua a sembrare una squadra pericolosissima, fortissima, la miglior squadra in Italia l'eliminazione dalla Champions non significa che il Napoli si sia indebolito e se pensiamo che questa Lazio che ripeto ieri ha perso a Roma in casa col Toro o questa Juve possano riuscire poi a sottrarre lo scudetto al Napoli secondo me stiamo facendo un esercizio abbastanza inutile perché penso che sia totalmente distante dalla realtà. la Juventus ha 47 punti, ha segnato 47 gol, ha subito 25 gol contro il Napoli che ha segnato 66 gol e subito 21 gol stiamo parlando comunque di una differenza di 20 gol segnati tra Juventus e Napoli che non sono per niente pochi, 20 gol fanno assolutamente la differenza e si tramutano infatti in una distanza netta in classifica che portano il Napoli a essere considerata non da tutti come dicevamo prima la favorita per lo scudetto la differenza sta tutta lì perché poi a livello difensivo ci sono soltanto 4 gol di differenza 25 gol subiti dalla Juve contro 21 del Napoli che è una difesa migliore rispetto a quella della Juve quindi è una squadra che fa più gol e ne subisce di meno in trasferta però stiamo molto attenti a questo dato in trasferta di quei 66 gol il Napoli ne ha fatti 33 significa che in casa in trasferta dal punto di vista offensivo il Napoli non cambia niente e direte voi sì però allora in trasferta significa che subiranno un po' di più la pressione degli avversari si andranno a distendere un po' di più subiranno più gol in trasferta invece no perché di quei 21 gol in trasferta ne ha presi soltanto 8 quindi stiamo parlando di una squadra che in trasferta risulta addirittura migliore a livello statistico per gol segnati e per gol subiti uguali gol segnati e migliore per gol subiti infatti in trasferta il Napoli in questa stagione in Serie A una sconfitta e un pareggio tutte le altre sono vittorie sono dati impegnativi soprattutto se andiamo a scorrere la lista dei giocatori della Juventus e del Napoli dal punto di vista dei gol segnati la Juventus si trova con Vlaovic e Rabiot capocannonieri della squadra per quanto riguarda la Serie A con 8 gol segnati a testa contro i migliori due del Napoli sotto questo punto di vista che sono Kvara-Scheia con 12 gol e Ozymane con 21 gol se Kvara può avvicinarsi all'otto di Rabiot e all'otto di Vlaovic Ozymane fa un campionato a parte fa una stagione a parte, corre veramente in una classifica a parte quindi stiamo attenti perché dal punto di vista offensivo il Napoli è una macchina da guerra e dal punto di vista difensivo se la cavano molto 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 bene molto 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 bene infatti statisticamente fanno più gol subiscono meno gol tirano di più nel totale e tirano di più in porta sono una squadra che serve più assist rispetto alla Juve confronto Juve-Napoli hanno più passaggi e una percentuale migliore di passaggio tra l'altro in Serie A il Napoli è la squadra con la miglior percentuale di passaggio quindi significa che hanno una costruzione molto molto pulita ed efficace soprattutto hanno più passaggi sulla tre quarti e anche qui sono la miglior squadra in Serie A dribblano di più sono la seconda migliore squadra in Serie A alle spalle dell'Atalanta hanno un baricentro medio più alto di 4 metri rispetto a quello della Juventus tirano più corner e hanno più possesso palla nella metà campo avversaria in Serie A inoltre perché questa cosa non è bastata fino adesso sono la squadra con più gol dalla panchina ben 13 13 la Juve però ha una statistica in cui migliore del Napoli una sola ma c'è e la Juve dovrà costruire la partita su questa cosa qui cercando di limitare il Napoli per vie centrali e poi sfogarsi sugli esterni perché la Juve rispetto al Napoli crossa di più ed è l'unico punto a favore della Juventus all'interno di tutte queste statistiche quindi la Juventus dovrà cercare di distendersi sugli esterni e giocare sugli esterni una partita di questo tipo diventano molto importanti giocatori come Costice e Quadrado quello che dovesse essere confermato il 3-5-2 o vedremo se si passerà ancora una volta un 4-3-3 con Chiese e Di Maria che potranno sfruttare l'ampiezza io vi dico secondo me sarà 3-5-2 poi vedremo perché sappiamo che questa mattina la squadra si doveva ritrovare per cercare di capire anche le condizioni di alcuni giocatori chiave come Bremer nel caso invece dovrebbero giocare uno tra Bonucci e Rugani secondo me sarà 3-5-2 e i due giocatori chiave sono appunto Costice e Quadrado Costice su tutti perché sappiamo bene la sua abilità nel cercare di crossare dalla sinistra il Napoli come il Sassuolo è una squadra che para poco ma l'abbiamo visto para poco perché andiamo anche a impegnarli poco e il Napoli in aggiunta è un'ottima difesa anche se oggi ha delle assenze dovute di infortuni quindi andiamo a vedere come andranno a riposizionarsi e riassemblarsi anche loro nella linea retrata l'altro giorno in Champions mi pare che a un certo punto si sono ritrovati con tre quarti di difesa non titolare quindi soltanto un giocatore che in teoria è il titolare che era Di Lorenzo le due squadre corrono praticamente lo stesso numero di chilometri a partita la Juventus sui 110 il Napoli sui 108 quindi dal punto di difesa fisico siamo lì non cambia tantissimo sono due squadre molto simili quindi la Juventus dovrà impegnarsi ancora di più perché il Sassuolo che era la squadra che correva meno in Serie A ne hanno visto la scorsa settimana ci ha messo in serie difficoltà e ieri non hanno fatto sicuramente una bella figura contro la Salernitana quindi sono tutte cose da tenerli nel calderone questo per quanto riguarda Juventus-Napoli sono due squadre che in questo momento dal punto di vista del campo hanno un abisso tra di loro la cosa bella del calcio è che se ne frega di tutte queste cose e la partita di stasera può essere una partita da tripla io all'andata non pensavo di perdere siamo stati distrutti stasera ho la sensazione di non poter vincere che si possa vincere ma che non vinceremo quindi speriamo che come la mia sensazione all'andata sia poi rivelata sbagliata che possa rivelarsi sbagliata pure questa credo che sia una partita da tripla quindi credo che la Juve abbia delle possibilità effettivamente di vittoria io sinceramente non le vedo anche perché immagino che il Napoli ora si butterà capofitto nella Serie A e la Juventus invece dovrà cercare anche di risparmiare dell'energia in vista della partita di mercoledì che purtroppo si gioca in contemporanea alla sfida tra Arsenal e Manchester City che probabilmente decideranno la Premier League e sarebbe stato bellissimo vederla la Coppa Italia gioca esattamente lo stesso giorno il 26 alle 21 quindi bisogna fare una scelta al massimo si recupera in seconda battuta la partita dell'Arsenal ieri Lukaku è stato graziato dal presidente Gravina e quindi è stata annullata la squalifica di Lukaku per la Coppa Italia sarà regolarmente a disposizione dell'Inter nella sfida della Juventus a San Siro dopo che il ricorso dell'Inter era pure stato respinto ora fermo restando che non voglio rimanere qui a parlare della decisione singola su Lukaku anche se vi invito a recuperare l'articolo della giustizia sportiva sulla Grazia andatevelo semplicemente a leggere non voglio stare qui a parlare di questa cosa perché non è quello che mi importa non è il messaggio che voglio passare in questo momento però si crea un precedente si crea un precedente per me sarà bellissimo avere Lukaku in questa sfida perché nel caso sarà ancora più bello eliminare l'Inter con Lukaku sarà ancora più bello cercare di far quel metro in più sul campo per cercare di chiudere su Lukaku perché magari ti senti in dovere di farlo dato che quel giocatore non doveva essere presente in quella situazione quindi per me dal punto di vista calcistico diventa ancora più interessante ancora più avvincente una sfida ancora più sentita ed è difficile perché le sfide all'Inter sono sempre sentite ma ancora più sentita del dovuto quindi non voglio star qui a parlare di questa cosa singola di Lukaku è un discorso generale il mio perché quanto tempo abbiamo sentito parlare di sistema Juve il sistema Juve che secondo i più era lì per cercare riaiutarla Juventus sempre e comunque nelle situazioni di difficoltà negli ultimi anni ne abbiamo viste tante ne abbiamo viste tante quest'anno abbiamo visto il VAR che non ha l'immagine di Candreva abbiamo visto una squadra penalizzata di 15 punti nel corso del campionato salvo poi farsi togliere questi punti e poi dire bah non sappiamo chi può decidere questa cosa vediamo più avanti cerchiamo di capirlo abbiamo visto il Napoli che l'anno scorso proprio nella sfida all'Allianz Stadium non si presenta a Torino in prima battuta vince il ricorso si fa rigiocare la partita e il Napoli va a schierare addirittura dei giocatori che avevano in teoria delle restrizioni legate a dei tamponi covid una serie di cose che secondo me il sistema Juve in quei momenti era un po' spento forse mancavano le immagini o le batterie proprio come era mancata in occasione del VAR proprio sul gol di Milik non convalidato per un fuorigioco su calcio d'angolo nonostante la presenza di un giocatore che avrebbe eventualmente comunque tenuto in gioco quindi il mio riferimento è proprio al sistema Juve e dato che in settimana abbiamo parlato pure di calciopoli abbiamo parlato di report ho trovato pubblicato da Juventibus su Twitter questa breve clip di 1 minuto e 40 secondi che ora vi faccio ascoltare non ve la faccio vedere perché potrebbero esserci problemi di copyright legati a TG3 vi leggo la didascalia Maurizio Mannoni su Rai3 contesta la puntata di report di lunedì invitando il collega Sigfredo Ranucci a parlare solo di chi è già stato sanzionato e non degli altri sempre perché c'è il sistema Juve accadono queste cose sulla TV di Stato ascoltiamola ascoltiamola perché è così grottesco che faccio fatica a crederci tutte le inchieste di report sono straordinarie sai quanta è la stima che abbiamo però ce n'è una che ti è rimasta basta che non che non vi occupiate più di presunti novità su calciovoli perché non ce ne sono più sia la giustizia sia la giustizia ordinaria che quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all'epoca diciamo sulla puntata della scorsa settimana c'è questa piccola rimostranza del resto non è che francamente poi si è venuto fuori cose di di grande grande novità anche se oggi prova sempre diciamo a spacciare le sue cose come novità sì ma noi abbiamo dato il giusto peso però abbiamo raccolto delle testimonianze di protagonisti da allora anche abbastanza in idea su quella che è stata un po' una lettura di quei fatti come è nata l'inchiesta quali erano gli interessi che potevano essere anche quelli diciamo di ipotizzare Moggi Giraudo e Bettega come vittime di un fuoco amico in qualche modo in quel momento quello può anche essere un momento particolare di passare di Domino buonasera Maurizio e Sigfrido Ranucci conduttore di report con lui ci vediamo in onda lunedì prossimo non calciopoli niente calciopoli ne puoi parlare basta che parli del versante quello già sanzionato anche noi ci vediamo lunedì voi continuate a scrivere di calciopoli puoi parlare l'importante è che si parli del fronte sanzionato perché per il resto non c'è niente da dire stiamo parlando di un giornalista che sulla tv di stato invita un altro giornalista a non raccontare fatti che potrebbero andare in una direzione scomoda o sfavorevole a quella che probabilmente è la sua squadra del cuore immaginatevi a parte invertite calciopoli nei confronti di un'altra squadra è un giornalista della Juventus che invita un giornalista d'inchiesta a non indagare più su quella questione non indagare più sulla questione o almeno se vuole farlo a ripetere le cose che sono già accadute le sanzioni che ci sono già state non quelle che potenzialmente potevano esserci o cercare di trovare altri collegamenti all'interno di una vicenda che rimane con dei lati oscuri e dove dopo 2 3 4 5 anni non si è potuti andare a processo nuovamente per casi di prescrizione a me sembra tutto così grottesco lo torno a dire che forse fa tutto il giro e poi si chiude è così grottesco che fa il giro e arriva a chiudersi e diventa una cosa normale in un paese nel quale le persone per queste cose nemmeno più si indignano è sempre quella la direzione non è l'Ukaku non è l'Inter non è Gravina che crea un precedente che crea un precedente il focus è sempre quello il sistema Juve che per tanti è lì che muove i fili però casualmente quando poi elencano i fatti per dimostrare il sistema Juve queste cose passano di mente ma sicuramente una disattenzione quindi siamo qui a ricordarle ai nostri amici e sono sicuro che la prossima volta quando andranno a digitare con le loro ditina tutte unte sulla tastiera i motivi per cui esiste un sistema Juve aggiungeranno anche questi questi fatti e quindi smonteremo le loro ipotesi